Se potete restare qui all'episcopio o no? Io sono razzeggiato con una zappa per noi di là, se non c'è un roccio con due tagli, avete capito? Ma voi adesso cosa state facendo? State cercando di recuperare la casa? Scusate un momento, voi lì ci state pure in televisione, è fatendo il papo con tutto quello che ha fatto il papo, con tutta la commissione papilla. Perché? Non solo gli anziani, ma per quanto i bambini che sono anziani non è venuto. E non si è fatentissima a tutta Roma. Roma le creano, 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 Roma le sconsegavano, fu costretti. Abbiamo detto tutto in Italia proprio una schifia. I sindici che sono capace di fare un gioco con quello, non mi hanno truffato, e fa una truffa, e non penso in altro, avete capito? Acqua e luce non ci hanno messo a cadere, perché se volessero approfittare pure la roba, mi hanno prenduto le palle e mocca, o pesciare, avete capito? È registrato nella televisione, è registrato le parole, ma è sporco. Si può andare pure giudicare, perché cacciano un santuario fuori paese, tutta l'annura, io ero maschile e guardavo il campanale, più gava, devo pensare che ero più grosso. E la gente si scorda, perché come parla, come parla, parla pure in due paesi. Avete capito? Vanno a parlare, diciamo, diciamo, se è così parla. Se uno con un ribotto faccia solo con la paura, è spara. Quando ne fu, non era la paura, è morto. Oppure i santi si picchiano i colli, può commettere una pochetta, era morto, e veniva a finire uno. Io faccio a letto, ma che io avevo usato la macchina che a me volevo, guarda. Ma non è pericoloso stare qui, sotto la frana, con la montagna che non viene recuperata? È pericoloso per tutte le parti, perché hanno fatto i palazzi, i palloni, i britti, sotto le montagne, un coppio binario. A Roma c'è l'asile dei bambini, capite? Ma ho registrato buone parole. L'asile dei bambini, perché coloro che danno a mangiare la truffa, hanno fatto i procetti. A me, 40 ore, che ha coltivatore di retta, che ha, scusate se è schizzato un po' qua, non mi hanno provato. E magari fresca ferita, non mi ha provato, ma non mi ha provato, no! Sti ora non fa bene, lui mi ha portato a bocca alla porta, che mia nonna quasi può essere sparata. Ha cresciuto, perché è musulino, combatteva. E scelta il signore, portami le cinquantini di votarello, mano a musulino. Mia nonna, ha detto per dicendo a tutti i due, si passa poco a te, il signore. Poi va a passare nelle montagne qui. Quando ho dovuto ricordare, il signore non lo ha pagato. Tu vai a passare a quello, con la fotografia a mano, eh? Allora, ha detto all'opuntino, mi riporto, se mi sei carci. Un coppia c'è la via Domo, c'è, che ti passa? Allora, non ho avuto a sfogare ora ancora, di quelli che andavano all'altro, hanno passato da palazzo. I figli, ma non ne avevano già fatto fuori. Avete visto quelle femminili? Non ne avevano già fatto fuori, ma buvo accoglie. Avete capito, si registrava le parole a me. Si ha accagnato il mondo, perché io, muccia, buono, ma da indirete, non mi vuole pensare. E i figli, i miei figli, mi hanno fatto i gesti, mi rendono, ma non mi hanno mai fatto, che i codi e i bracciati. Perché fino a poco fa, mi ha gippiccicato, quelli rumini, e il caso mi ha riscopito. Se vuoi mi venite a casa, no, si hanno formato due cortina, dicono, questi che, quelli che, dovevi salire. I figli hanno dato un nome, cosa succede con Antonio, gli fanno... Non mi viene, da quando oggi hanno pagato il salone? Se non mi si andava a pagare il nome, e mi è tramontato Antonio, e il figlio mi ha già concetto carico. Allora mi ha appiccicato, mio padre, prima che mi ha accattato questa, da me, vieni, stai. E' stato a bere la vigna, e mi ha capito.